Questo video riguarda i migliori 3 decoder digitali terrestri. Il vincitore della qualità è il Nokia T2. Ricevitore DVB-T barra 2 per la ricezione della TV gratuita in qualità HD e facile installazione e design minimalista. Con un solo clic, è possibile accedere facilmente alla guida direttamente sullo schermo. Siate sempre aggiornati e impostate un timer per i programmi TV successivi che non volete perdere. I tuoi programmi preferiti sono disponibili rapidamente in qualsiasi momento, crea le tue liste di canali personalizzate, distinguere tra genere, membri della famiglia o altre preferenze, e passa tra programmi TV, film, sport e molto altro in pochi secondi. Mettiti comodo e ricorda i tuoi momenti più belli indietro, e collegare il disco rigido o l'unità flash USB e iniziare a riprodurre video, foto o registrazioni audio. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Tradelux Decoder. Un decoder digitale terrestre per il nuovo standard DVB-2T, Full HD, uno telecomando con batterie incluse, un cavo HDMI, un manuale di istruzioni in italiano. Collegare il decoder alla presa di corrente tramite il cavo di alimentazione, collegare il cavo antenna al decoder e utilizzare il cavo HDMI per collegare il decoder alla TV. Una volta collegato il decoder e trovata la sorgente corretta, prendete il telecomando del decoder e accendetelo con il tasto rosso in alto a destra. Potrete usare un solo telecomando per TV e decoder. Qui a fianco uno o due video per installazione e sintonizzazione TV e sincronizzazione del telecomando. In fondo alla pagina procedura per cambio numerazione canali. In caso di problemi contattateci tramite la messaggistica di Amazon o nella mail che trovate qui a destra cliccando alla voce Venditore, troveremo la soluzione per voi. Il vincitore del premio è l'APA 2211D. L'APA 2211 è progettato per offrirti la migliore esperienza. Il dispositivo, prodotto con macchine high-tech, colpisce per il suo design e le sue prestazioni. Il coperchio superiore è in metallo e il design elegante del display a LED rende il dispositivo altamente preferibile. Questo dispositivo con segnali forti dispone di porta USB, ingresso HDMI, uscita video e audio. Le risoluzioni del display in vari formati come 1080i, 1080p, 720p e la riproduzione di immagini memorizzate chiave, file musicali e filmati ti offrono la migliore esperienza. Design del menu facile e conveniente, sistemi di blocco avanzati, i blocchi di sistema, configurazione, regolazione genitore e canale creano un ambiente sicuro e confortevole per la tua famiglia. EPG è disponibile per l'uso con 10 lingue di menu, versione TP, archiviazione e protezione di 1000 canali in totale in caso di interruzione di corrente, supporto teletext, wifi e supporto YouTube. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.